Per noi è determinante, noi siamo un acceleratore di business, si chiama Italif, è un punto d'incontro, una piattaforma di convergenza per le start up del settore clean tech e per il mondo industriale dei capitali. Per noi Vedo Green è il partner ideale e quindi è quello che ci consente di entrare in relazione direttamente con il mondo degli investitori che vogliono immettere capitale di rischio in start up innovative, in aziende appena costituite o in attività di ricerca e sviluppo che hanno la volontà di raggiungere una propensione industriale e di internazionalizzazione. Noi siamo, le dicevo, un acceleratore di impresa, quindi mettiamo a disposizione delle start up del settore clean tech il luogo ideale dove raggiungere la dimensione industriale, dove strutturarsi come imprese vere e proprie. Quindi un'area industriale, un luogo dove possano far accadere la loro storia industriale, ma anche un know-how e una serie di servizi dal business model, dalla redazione del business model a quella del business plan, alla preparazione, alle modalità di presentazione agli investitori e quindi l'elaborazione del pitch che sono determinanti per chi non ha mai fatto industria e non si è mai posto il problema di raccogliere dei capitali necessari per crescere. Questo è un problema molto forte in Italia perché in questo momento è difficile per un'impresa neonata accedere al mercato dei capitali, quindi diventa molto rilevante avere dei partner che ti possano accompagnare in questo percorso e trovare la piena soddisfazione nella realizzazione del proprio sogno di fare impresa.